e quando questa struttura prenderà vento comincerà a oscillare, quindi si gireranno tutti insieme il vostro evento e la struttura col vento... E' bello se puoi arrivare in un posto dove trovi te stesso, così Tonino Guerra si riferisce al suo paese d'adozione, Pennabilli. Una località profondamente cara anche a Gabriele Bartoletti che è solito visitare i suggestivi luoghi dell'anima o raggiungere insieme ad un amico il roccione, punto dominante del vecchio castello di Penna. Sulla cima del colle che sovrasta il paese c'è un monumento eretto a ricordo del missionario pennese Orazio Olivieri. Una campana affiancata a tre mulini di preghiera tibetani inaugurati nel 2005 dal quattordicesimo Dalai Lama. Facendoli ruotare si innalza una preghiera silenziosa in grado di purificare l'anima e il mondo dal karma negativo. Tornando nel centro storico per Gabriele, così come per ogni artista contemporaneo, è d'obbligo una visita ai sotterranei del trecentesco oratorio di Santa Maria della Misericordia, sede del fantastico mondo di Tonino Guerra. Uno spazio museale che supera l'idea stessa del museo, diventando un luogo in cui ci si incontra, si discute e si respira l'arte. Nella città che un grande artista come Tonino Guerra ha scelto come dimora e che ogni anno ospita la gabbia della fantasia, Gabriele Bartoletti ha esposto le sue immagini dal buio, mostrando la tecnica con la quale riesce a liberare i ricordi e a fissarli sulla tela. Esposte dal 5 al 20 giugno 2010 presso il Teatro Vittoria, le sue opere hanno sublimato un percorso lungo e faticoso che oggi si racconta attraverso una pittura vivace e catartica. Grazie a tutti. 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 Dì, 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 perché mi piace, mi piace, c'è questa azione, non è che guardo tanto i due galli, vedo che sono cattivi, che hanno veramente una cattiveria, un spante. Perché è tutta la cattiveria che purtroppo ho accumulato io dentro con questi problemi che ho avuto. C'è una pittura che cura, è già una pittura magica, perché è l'altra che può aiutare sulla fantasia. Hai ragione. Qui è una pittura che ti ha aiutato a vivere. A me mi ha aiutato a vivere proprio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.